Un killer temuto, uno sgarrista che portava nella copiata il nome di Umberto Bellocco del clan di Rosarno fino a portarlo a far parte della società maggiore. E Pasquale Bonavota, l'ultimo boss dell'Andrangheta calabrese, la cui fuga è finita oggi, catturato a Genova a conclusione di articolate indagini condotte da Rossi dei comandi provinciali dei carabinieri di Vibo Valencia e del capoluogo Ligure. E' lui infatti il presunto capo indiscusso dell'omonima famiglia criminale attiva a Santonofrio nel Vibonese con ramificazioni tra Piemonte, Liguria e Roma. Dell'erede alla guida del clan Bonavota, nato a Vibo Valencia il 10 gennaio di 49 anni fa, titolo che gli aspetta per discendenza e appartenenza, si era persa traccia dal 28 novembre del 2018 all'indomani della condanna all'ergastolo emessa dal gruppo distrettuale di Catanzaro al termine del processo celebrato con rito abbreviato nato dall'operazione conquista. Come un fantasma, per quattro anni e mezzo nessuno è riuscito a trovarlo. Lo hanno cercato ovunque, anche nel fortino dei Bonavota a Santonofrio, ma senza successo, fino a stamattina. Quello messo a segno dei Carabinieri è infatti un colpo tanto simbolico quanto significativo nella lotta alla criminalità organizzata calabrese, che colpo dopo colpo sta mutando nella forma e nella sostanza la propria dimensione, costretta a fare a meno di figure di assoluto rilievo. Pasquale Bonavota era riuscito a sfuggire allo storico blitz rinascita Scott, che ha messo in ginocchio tutte quante le potenti cosche d'indrangheta del Vibonese, scattato all'alba del 19 dicembre del 2019 sotto il coordinamento della DDA di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Ed è proprio dalle carte dell'inchiesta della distrettuale antimafia che emergono i tratti distintivi di Pasquale Bonavota, capace di moltiplicare gli affari della famiglia oltre ai confini calabresi, tra Piemonte, Liguria e Roma, territori che Pasquale Bonavota, grazie al sostegno dei vecchi sudali del padre, riesce a conquistare. Nella capitale in particolare Pasquale Bonavota riesce a moltiplicare gli affari e il patrimonio della famiglia, grazie al controllo dello spaccio di stupefacenti e legami con soggetti criminali influenti e legati alle famiglie romane.